25 abitazioni crollate e altre 1200 case gravemente danneggiate, molte delle quali dichiarate inagibili, 136 feriti, 28 scuole dove si sono riscontrate grosse crepe e danni a 149 palazzine e il pesante bilancio di due forti scosse di terremoto registrate nel fine settimana in Albania, la più forte sabato pomeriggio di magnitudo 5.8 alla quale sono seguite oltre 300 di assestamento. L'epicentro è stato registrato sulla costa settentrionale albanese vicino Durazzo a 20 chilometri a nord-ovest di Tirana. Il terremoto ha scatenato il panico soprattutto nella capitale dove risultano seri crolli all'istituto di teologia. Tante famiglie hanno abbandonato le case riversandosi per strada e nelle piazze. Fonti mediche di Tirana precisano che tra le persone ricoverate, molte delle quali bambini e giovani, ci sarebbe anche una persona in gravi condizioni. Alcune delle scosse sono state avvertite anche in Italia, in particolare nel Salento, ma anche a Bari e Taranto. A Durazzo sono saltati gli impianti elettrici mentre a Tirana è stato evacuato un intero palazzo. Il sisma delle ultime ore, secondo quanto dichiarato da fonti istituzionali albanesi, sarebbe il più forte degli ultimi 30 anni. Il sostegno dall'Italia in queste ore non sta mancando. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che il nostro paese è disponibile a far fronte alle conseguenze del sisma. Lo ha dichiarato il premier albanese Edirama ieri nel corso di una seduta straordinaria del governo, convocata per fare il punto sulla situazione.